Il nuovissimo stadio Lusail Stadium è pronto per i mondiali di calcio in programma in Qatar. Dopo il test della settimana scorsa, lo stadio da 80.000 posti, situato a Lusail City, 15 km da Doha, ha ricevuto le 5 stelle della sostenibilità. Durante i mondiali ospiterà ben 10 partite e il 18 dicembre sarà il palcoscenico della finale della Coppa del Mondo di Calcio 2022.